io sono lo chef frae salvatore e stasera vado a presentarvi questo piatto tipico diciamo della costiera amalfitana stiamo parlando della nerano che è composto olio extravergine delle zucchine del provolone semi piccante degli spaghetti basilico e parmigiano andiamo ad emergere l'olio in una pentola calda delle zucchine saliamo giù la pasta spaghetti del provolone semi piccante facciamo una fusione aggiungiamo un altro poco d'acqua di cottura andiamo a mantecarlo con un po' di parmigiano andiamo a pressarlo nel pentolino dove viene servito il basilico fresco il piatto è servito che stia romperesco nizzo casa a balla tutto pizzo dove stanno un pizzo in pizzo a te fanno i tuoi carizzo dove gustate già vizzo chiude sfriano e chiude a pizzo come tanta biranizzo tenescino schizza schizza fino a quando non scapizzo che stia romperesco nizzo a te fanno i tuoi carizzo